Una vecchia conoscenza dei reality, ha fatto un appello a Maria De Filippi, sarà lei la nuova tronista di Uomini e Donne? Uomini e Donne, i tronisti verso la scelta.Uomini e Donne, programma quotidiano di Maria De Filippi, si è preso una piccola pausa per le feste e tornerà dal 7 gennaio su canale 5 alle 14 45. I cinque tronisti di questa stagione sono ormai alla fine del loro percorso.A febbraio, in prima serata, Lorenzo Riccardi, Luigi Mastroianni, Teresa Langella, Andrea Cerioli e Ivan Gonzalez faranno la loro scelta Il tutto avverrà nella prima serata di Canale 5 con Valeria Marini, Gemma Galgani e Giulia De Lellis Viste le scelte imminenti e il cambio dei tronisti, una vecchia conoscenza dei reality ha fatto un appello alla conduttrice Si tratta di Federica Lepanto, ex vincitrice del Grande Fratello.Uomini e Donne, Federica Lepanto chiede a Maria De Filippi il trono Come riporta Gossip e TV, recentemente Federica Lepanto ha interrotto la sua relazione con Gianfilippo Non è, quindi, un periodo facile per l'ex cefina che ha trascorso un triste Natale e ha preferito recarsi a Londra per un po' per staccare la spina Tuttavia, sui social ha fatto sapere di essere pronta per innamorarsi di nuovo. Federica ha fatto un video in cui esprime la volontà di sedersi sulla sedia rossa di Uomini e Donne per poter trovare un nuovo amore Non è la prima volta che ex partecipanti del Grande Fratello si ritrovano tronisti, lo stesso Andrea Cerioli ha fatto esattamente questo percorso Maria De Filippi, e la redazione accetteranno la richiesta della prorompente Federica Lepanto. Non rimane che attendere la presentazione dei nuovi tronisti per scoprirlo Grazie a tutti